Restano molto gravi ma stabili le condizioni di Luca Abba, leader dei Notav, folgorato ieri mattina e precipitato rovinosamente da un traliccio dell'alta tensione sul quale era salito per protestare contro l'ampiamento del cantiere per la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione. Per i medici dell'ospedale CTO di Torino dove è ricoverato nel reparto di rianimazione sedato e intubato la prognosi resta riservata dunque per il momento non può essere dichiarato fuori pericolo. La notte è stata tranquilla, il paziente regge bene la terapia intensiva di cui comunque ha necessità. Respiro e quindi supporto al trauma polmonare va bene, l'attenzione maggiore è sempre su quello che abbiamo detto ieri. Insomma il rene deve reggere un grosso carico come conseguenza del danno dei tessuti da folgorazione. Con i colleghi della chirurgia plastica stiamo già programmando, verrà fatta penso non prima di giovedì sera perché va fatta a una certa distanza di tempo, una risonanza agli arti che ci farà capire finalmente l'esatta dimensione del danno e quindi poi fare i programmi che saranno in parte anche chirurgici. Decisivi saranno i prossimi giorni. I medici dovranno valutare la reazione del fisico di Abbas convolto da una scossa elettrica che lo ha percorso dal braccio destro alla gamba. Dovranno dunque essere verificate le condizioni di arti e muscoli. La corrente ha attraversato il corpo nel punto in cui passa da un danno d'austione interno quindi non è facilissimo da pesare perché poi dipende, la corrente prende la strada a minore resistenza quindi muscolo, tessuto di poso è probabile giudicare che ci sia una grossa componente muscolare. Intanto non è escluso che il paziente sia sottoposto a dialisi per aiutare i reni a smaltire le tossine generate dalla folgorazione. Venerdì dovremo avere già il risultato della risonanza che faremo giovedì penso che non aveva tanto senso far prima e quindi il chirurgo plastico potrà dare un esatto peso della quantità di danno e un'idea di programma successivo. Se il quadro clinico rimarrà quello attuale fanno sapere i medici Abba che è tuttora in coma farmacologico potrebbe essere svegliato nel prossimo fine settimana.